Allora guarda, la situazione è questa. I nostri tecnici hanno valutato attentamente il progetto e hanno previsto per la realizzazione del software circa un anno di lavoro. La spesa sarebbe di 100.000 euro. Iva esclusa ovviamente. E in che modo io sarei coinvolto nello sviluppo? Noi sviluppiamo il software e diventiamo titolari. A lei comunque riserva da una percentuale sulle vendite. E di che percentuale stiamo parlando? No, no, un attimo, non ho capito. Cioè io vi pago per sviluppare una mia idea e voi ve la intestate? Esattamente.